Rapido video sui dati Auditel Sanremo, seconda serata 2014, i dati di mercoledì crollano gli ascolti, lo share, anche nella prima serata c'era stata una sostanziale diminuzione rispetto allo scorso anno ma siamo ai minimi dopo 6 anni e vediamo i dati sono stati quindi nella seconda serata quasi 9 milioni gli spettatori che hanno assistito la prima parte 33,52% di share, l'anno scorso invece erano ben 12 milioni e mezzo col 42% di share nella seconda parte gli spettatori sono stati 3 milioni e 800 mila quasi col 38% quasi di share mentre lo scorso anno erano stati quasi il doppio 6 milioni e 6 con il 50 quasi di share, il 49% la media dunque della seconda serata del festival di Sanremo 2014 è scesa di quasi 9 punti rispetto allo scorso anno ieri è stata 7 milioni e 700 mila spettatori contro il 34% di share mentre lo scorso anno la media era stata di 11 milioni e 400 mila un po' anche la partita di calcio del Milan che ha perso e chi l'ha visto ma io a questo punto mi la manderei chi ha visto Sanremo a dopo per gli ulteriori commenti a dopo per gli ulteriori commenti Grazie.